Le protezioni Forksaver si affacciano sul panorama degli accessori per moto. Un accessorio efficace ed intelligente per proteggere le forcelle upside down da polvere, acqua, fango e corpi estranei. Ciao ragazzi, oggi vi presentiamo Forksaver, un accessorio efficace ed intelligente per proteggere le forcelle upside down da polvere, acqua, fango e corpi estranei. Di facile e semplice installazione, grazie a materiali ad altra esistenza, Forksaver protegge lo stelo della forcella da sporco, che in condizioni critiche e gravose può compromettere il funzionamento del paraolio e generare perdite di olio e di efficienza della forcella. Forksaver sono costruite con materiale pregiato e altamente tecnologico, sono robuste e impermeabili. Trama e ordito sono stati progettati e fabbricati in modo specifico per un altissimo grado di stress. Le cuciture sono tutte doppie ed eseguite manualmente come un prodotto di sartoria completamente made in Italy. In confronto alle protezioni neoprene o ad anello attualmente in commercio, Forksaver offre numerosi pregi, poiché tale sistema non produce atriti che potrebbero danneggiare lo stelo e mantenere inalterata la scorrevolezza dello stesso. Per tutte le informazioni necessarie non esitate a scriverci nei commenti qui sotto oppure visitate il sito www.forksaver.com